Ciao a tutti, benvenuti ad Anteprima Cinema. Ecco il video di oggi e a seguire le notizie. Basta, basta. Andate e fate attenzione. I suoi desideri sono ordini, padrone. E mi vieni con noi, caro Birbora Tincolicchino? Sei affidato a noi ora? Sì, e noi ci affideremo a te. E dimmi, caro, che ne farai di queste belle monete? Per prima cosa comprerò una bellissima giacca nuova al mio babbo. Una giacca nuova tutta d'oro e d'argento. E coi bottoni di brillanti. E poi... Ma che peccato, però. Perché è che peccato? No, niente. Pensavo... Pensavo a questi cinque miserabili zecchini che resteranno soltanto... Sì, poveracci, disgraziati, zecchinetti da quattro soldi. E dire che potrebbero diventare centinaia. Centinaia? Ma che dico? Decine! Unità! Addirittura! Migliaia! Milioni! Ma certo, assolutamente! Ma... Pecca, 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 peccatuccio! Killing Them Softly è il prossimo thriller più atteso, nel cast Brad Pitt che interpreta Jackie Cogan in questa nuova versione del più famoso romanzo di George V. Higgins. Nelle sale il 19 ottobre e nel cast anche Javier Bardem, Mark Ruffalo, Sam Rockwell, Casey Huffelec, Ray Liotta e molti altri. Diretto da Andrew Dominick è la storia di Cogan che, pagato dalla mafia, dovrà scoprire chi ha rubato in una mano di poker dalle puntate molto molto alte. E per oggi è tutto, ci vediamo prestissimo con Anteprima Cinema!